Sono donne originarie dai paesi dell'est europeo, soprattutto Romania, Ucraina e Russia, che, seppur regolarmente assunte dai rispettivi datori di lavoro, non hanno dichiarato i redditi percepiti e di conseguenza hanno omesso di versare l'IRPE fallerario relativo alle annualità d'imposta sinora scadute. È la Guardia di Finanza della Tenenza di Asiago, che ha svolto 27 controlli fiscali, ha riconstatato una base imponibile sottratta a tassazione pari a 830.046 euro. L'analisi condotta dalle fiamme gialle ha riguardato le posizioni dei dipendenti che avevano l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Differentemente dai normali rapporti di lavoro, colfe badanti, i loro datori di lavoro, non fungono da sostituti d'imposta. Pertanto non sono tenuti a effettuare le ritenute sulla retribuzione corrisposta, ma solo il versamento dei contributi previdenziali. La Guardia di Finanza continua nei suoi controlli a tappeto.